addio a marco piccoli fondatore dell'inferno bianco rosso cagli donna si getta dal balcone il marito la salva gabice mare 93 ne cade nel porto salvato dalla guardia coschiera le tre diocesi si uniscono in uno storico pellegrinaggio in terra sagra croce rossa premia gambini meccanica per il suo impegno nella pandemia una buona serata cari amici e amiche di rossini tv ritrovati con il nostro spaz dedicato all'informazione telegiornale di mercoledì 3 di novembre la cui copertina è dedicata all'addio di marco piccoli se ne andato a 59 anni la figura più iconica del tifo della vl nonché fondatore dell'inferno bianco rosso il servizio se ne va l'anima del tifo bianco rosso se ne va il capopopolo di anni d'oro della scavolini basket così come di cadute e risalite della vl marco piccoli si è spento ieri all'età di 59 anni 13 mesi dopo un ictus che lo colpì violentemente mentre era nella doccia di casa 13 mesi di strenua lotta per riabilitarsi e poi nei giorni scorsi un indebolimento delle condizioni fisiche il ricovero in ospedale di sabato e il trapasso avvenuto ieri sera annunciato attraverso i social da eric che assieme a michael era uno dei due figli di marco eric ha ringraziato i tantissimi che hanno sostenuto il papà nell'ultimo anno in queste immagini vi mostriamo marco piccoli intervistato da marco cadedu alla presentazione della vl 2019 2020 eloquenti le parole spese sui canali della comunicazione della società bianco rossa a pochi minuti dalla notizia la vl piange il primo tifoso bianco rosso e amico di tutti noi piccoli nel 1975 fu tra i fondatori dell'inferno bianco rosso fu tra i pionieri del movimento ultrapesarese e fu storica guida dell'inferno nelle bolge del palaspor di viale dei partigiani per poi rimettere la sciarpa al collo anche nell'astronave da ieri sono incalcolabili ricordi dei tantissimi pesaresi tifosi e non che stanno popolando i social tantissimi coloro che hanno incrociato la strada con quella figura iconica e trascinatrice della curva una vera anima del tifo bianco rosso alla quale domenica verrà tributtato l'applauso più lungo nella sfida della vl contro milano intanto sabato 5 novembre alle 10 si terrà il funerale nella chiesa di villa san martino attimi di terrore poco prima della mezzanotte di ieri nel centro di cagli dove una donna di 37 anni si è gettata dal balcone del terzo piano del suo condominio decisa a farla finita la donna però è stata salvata dal marito che osservandola in atteggiamento strano la seguita nel terrazzo ed è riuscito ad afferrarla per un braccio salvandola dal tentato suicidio la donna di nazionalità albanese è mamma di una bambina di due anni e secondo quanto si apprende soffre di una depressione post parto ora è stata ricoverata in psichiatria a urbino tragedia sfiorata anche oggi a gabice mare quando un uomo di 93 anni è caduto accidentalmente nelle acque del porto canale l'anziano signore trovandosi in difficoltà nel risalire in banchina ha gridato aiuto attirando l'attenzione del comandante della guardia costiera di gabice mare raimondo parcelli che ha allertato immediatamente la sala operativa della guardia costiera di pesaro l'uomo è stato tratto in salvo grazie ad un salvagente lanciatogli dal personale dell'anmi presente lungo il molo le condizioni del 93enne dopo un primo intervento medico sono parse da subito buone la guardia di finanza di pesaro ha denunciato per evasione fiscale il titolare di una società pesarese al quale sono stati sequestrati preventivamente 130 mila euro fra conti correnti bancari e altri beni le indagini in acquero nel 2018 dopo una segnalazione alle autorità giudiziarie dai funzionari delle agenzie delle entrate di pesaro che hanno portato ad appurare reiterate condotte illecite di evasione è scattato così il sequestro di somme equivalenti a quelle distratte all'erario da oggi le imprese danneggiate dall'alluvione delle 15 settembre scorso possono fare richiesta ai confidi gestori del fondo appositamente costituito dalla regione con il contributo della camera di commercio imprese che potranno così usufruire del finanziamento agevolato e garantito per il ripristino delle attività economiche il finanziamento bancario ha un valore massimo di 150 mila euro con durata di otto anni di cui fino a due anni di preammortamento e potrà essere estinto a seguito di eventuali contributi statali per i danni subiti il contributo della regione può raggiungere il valore massimo di 26.500 euro di cui 22.500 per ridurre gli interessi sul finanziamento e 4.000 per il costo della garanzia e cambiamo argomento per la prima volta le tre diocesi di pesaro fano e urbino si uniscono nell'organizzare un pellegrinaggio in terra santa che è stato presentato questa mattina per la prima volta tre vescovi si metteranno in cammino in terra santa muovendo all'unisono gli stessi passi sulle radici della cristianità prende forma nella provincia di pesaro urbino il primo pellegrinaggio capace di unire tre diocesi quelle di pesaro urbino e fano i cui pellegrini dal 10 al 17 agosto 2023 cammineranno assieme sul suolo della terra santa al fianco di monsignor sandro salvucci monsignor giovanni tani e monsignor armando trasarti un percorso di fede senza precedenti che l'arcivesco metropolita di pesaro ha presentato oggi in episcopio alla presenza degli organizzatori del progetto andare in terra santa significa andare alle sorgenti della fede e dell'identità dei cristiani e le chiese che vivono sparse per il mondo le chiese che vivano nel pesarese fanno questo cammino verso la chiesa che è la madre di tutte le chiese laddove tutto è iniziato dopo i fatti che conosciamo bene della pasqua della morte risurrezione gesù e della pentecoste quando gesù appunto ha promesso e ha donato lo spirito santo affinché gli apostoli e i cristiani suoi discepoli fossero suoi testimoni annunciatori del vangelo della buona notizia della pace fino agli estremi confini della terra per noi tornare lì significa ripartire da dove tutto è iniziato significa ridare slancio alle motivazioni della nostra fede ritrovare le radici e ripartire quindi anche con un impegno rinnovato tornando a casa per essere testimoni qui di quel vangelo che cristo ci ha donato come appunto ufficio nazionale israeliano del turismo siamo veramente onorati di essere presenti a questa iniziativa e soprattutto è nostro desiderio partecipare all'organizzazione di questo progetto travescovi in cammino nella terra santa in israele dopo l'esperienza ahimè del covid che si sta cercando di superare importantissimo perché perché questa esperienza può far rinascere veramente il desiderio del viaggio di tornare in questa straordinaria terra regalando un'esperienza unica a tutti coloro che la vorranno vivere fino in fondo da nazareth a betlemme dal lago di tiberiade al deserto di giuda da betania fino a gerusalemme da domani partono le pre iscrizioni per un viaggio i cui costi orari e dettagli si definiranno cammin facendo in base al numero dei partecipanti e all'evoluzione dei prossimi mesi sui collegamenti aerei si tratterà di capire quante sono le persone e come il numero delle persone e come poterle distribuire nella nella location in degli alberghi e vedere appunto dal numero dipenderà anche e dipenderanno i voli e quindi aspettiamo di avere le iscrizioni e le pre iscrizioni perché avverranno online le pre iscrizioni saranno online nei siti delle varie diocesi attraverso il QR code con una scadenza il 30 gennaio e invece le iscrizioni avranno scadenza il 10 di maggio successivamente sempre attraverso i siti delle varie diocesi attraverso il QR code. Ed ora una notizia che ci riporta indietro di due anni e mezzo ci riporta ai mesi bui dell'inizio della pandemia e alla prima presa di confidenza con la novità delle mascherine mascherine che arrivarono a pesaro dalla cina grazie all'impegno di un'azienda che nei giorni scorsi è stata premiata dalla croce rossa nazionale vediamo l'azienda pesarese gambini meccanica è stata premiata dal presidente nazionale della croce rossa italiana per il suo impegno e spirito di sacrificio dimostrato durante la fase più critica della pandemia croce rossa che ha conferito a gambini la medaglia di benemerenza il tempo della gentilezza erano infatti i primi giorni di marzo 2020 e il virus cominciava a mordere in maniera violenta inducendo alla fase della caccia le mascherine una fase in cui la gambini meccanica in virtù di alcuni rapporti lavorativi con la cina riuscì ad avere un importante canale di importazione dei dispositivi di protezione e questo mio figlio disse che da noi eravamo corretti di questa pandemia che stava arrivando perché abbiamo dei nostri diciamo collaboratori in cina e i quali già avevano un rispedito delle mascherine precauzionate per proteggersi all'epoca alcune interviste di gambini sul tema della pandemia sollecitarono dunque l'attenzione della croce rossa era venuto da un'azienda un responsabile della croce rossa di pesaro e chiedendoci se potevamo dargli una mano e guarda mio figlio prende il telefono chiamato in cima e dice guarda qui c'è la croce rossa di pesaro che avrebbe bisogno delle mascherine no? loro dicono noi non ci sono problemi no? però c'è un po' da aspettare il mio figlio gli dice no guardi noi non possiamo aspettare che tu ti dai la mano e di una farna volata di farti vedere questa roba nel giro di qualche giorno e comunque ti passo il coordinatore responsabile della croce rossa di pesaro parlate con loro fate con loro dove ti chiederanno anche dei codici no? e per queste cose che siano perfettamente in regola con la sanità italiana il risultato fu che nel giro di pochi giorni arrivò una consistente fornitura di mascherina che all'epoca erano introvabili e la croce rossa a distanza di due anni e mezzo non ha dimenticato quell'aiuto prezioso che evitò tante problematiche erano introvabili in quel periodo no? noi avevamo questo canale che avevamo detto che noi le avevamo in casa perché le avevamo andate su e i cinesi no? 20 giorni prima che succedesse i patatracchi dopo di che le avevamo messi in contatto hanno parlato fra di loro e ci sono risentiti anche più volte dai loro uffici no? tutto quanto hanno parlato a tre ore si sono messi d'accordo sui pagamenti e sul prezzo e so che le avevamo pagate una cavolata le avevamo pagate molto poco e così è stato tant'idea che poi la settimana scorsa si ha chiamato la croce rossa e si è andato chiedendo se è un appuntamento per venerdì a mezza che veniva il presidente e un responsabile a trovarci e noi non sapevamo niente ci siamo rimasti un po' così un po' spandertati ma entusiasti perché dopo due anni la croce rossa nazionale è venuta a sapere quello che ci siamo riusciti a fare a dare una mano no? perché noi sul sociale cerchiamo sempre di essere pronti per dare una mano nel limite del possibile insomma ecco Bere acqua del rubinetto dell'acquedotto di Pesaro è sicuro, ecologico e sostenibile lo ribadiscono comune e marche multiservizi che da oggi hanno cominciato a donare 800 borracce a piccoli studenti della città per sensibilizzare a questa importante abitudine parte oggi dalla scuola primaria Chiara Lubic di Pesaro una importante operazione di educazione alla sostenibilità e all'ambiente portata avanti da comune di Pesaro e marche multiservizi due enti che congiuntamente doneranno 800 borracce per sensibilizzare all'uso dell'acqua del rubinetto un'acqua buona, certificata, sicura come è verificato anche dall'ultimo report di marche multiservizi una donazione ai bambini cominciata oggi dalla scuola primaria Chiara Lubic con gli alunni della classe prima che hanno ricevuto le prime 70 borracce così come le bottiglie che sono state donate agli insegnanti anche per sensibilizzare all'utilizzo delle casette dell'acqua Oggi partiamo dalla Lubic con un'iniziativa che riguarderà tutte le scuole della città riservata alle classi prime della primaria e sarà un'iniziativa ed è un'iniziativa legata all'ambiente la consapevolezza, abbiamo pensato io e l'assessora Morotti insieme a Marche Multiservizi cosa si potesse fare come rito di passaggio nella scuola dei grandi e abbiamo pensato che l'autonomia legata anche al consumo dell'acqua fosse una delle prime autonomie in cui i bambini sono chiamati a essere protagonisti in prima elementare da qui nasce il bel rapporto con Marche Multiservizi che ha sposato la nostra idea di fare un regalo a tutti i bambini della classe prima e nascono queste borracce che sono sostenibili con materiale riciclato e sostenibile e quindi a impatto zero per l'ambiente insieme a un questionario che abbiamo donato a tutti i bambini da fare in classe o con i propri genitori e in più anche un pensiero per gli adulti per i docenti e per il personale sono state pensate dei cestini con delle bottiglie che possono essere riempite nelle casette dell'acqua un'azione concreta per parlare di ambiente e per renderci anche protagonisti di un ecosistema sempre più sostenibile sensibilizzare sull'utilizzo dell'acqua del rubinetto che è un'acqua buona è un'acqua che va consumata perché ha tutta una serie di caratteristiche intanto la sicurezza la garanzia che Marche Multiservizi vuol dare ai consumatori è quella dell'analisi vengono realizzate oltre 160 analisi al giorno quindi tutte che rispettano i parametri di conformità per cui è un'acqua buona che va consumata per i motivi che sappiamo tutti ormai quindi quello del risparmio economico ma soprattutto quello della sostenibilità ambientale quindi della riduzione del consumo di plastica si parte dalle scuole perché bisogna sensibilizzare i ragazzini i bambini dai primi anni di età lanciando anche un altro messaggio quello dell'importanza della risorsa acqua quindi ci deve essere un approccio anche culturale che cambia rispetto all'acqua perché abbiamo visto le problematiche che durante i mesi estivi la siccità che crea quindi la difficoltà sempre maggiore dell'approvvigionamento l'acqua non va sprecata ma va gestita in maniera responsabile da Pesaro a Fano con un tempismo alquanto contraddittorio con la notizia che vi abbiamo appena dato il comune di Fano infatti ha adottato oggi un'ordinanza di divieto di utilizzo al consumo umano dell'acqua prelevata da pozzi privati ad uso agricolo e domestico nella zona di Falcineto Basso e Torno il provvedimento è preso a titolo cautelativo dopo che le analisi di asset hanno evidenziato una contaminazione delle acque che si sta cercando di approfondire proprio in queste ore domani 4 novembre si celebra a Pesaro il giorno dell'unità d'Italia e la giornata delle forze armate la cerimonia si terrà dalle 9.30 nella caserma del 28esimo reggimento Pavia alla presenza del suo comandante Antonio Di Leonardo e del prefetto Tommaso Ricciardi che dalle 11 si trasferirà a Palazzo Ducale per conferire 18 ordini al merito della Repubblica cerimonia anche a Montecchio a partire dalle 10 in Piazza della Repubblica e a Montelabate dove alle 21 nella Sala Nobile del Comune si terrà un incontro per approfondire la storia delle Lapidi di Montelabate ed ora passiamo allo sport torna alla vittoria la Megabox Vallefoglia che ieri sera in trasferta a Pinerolo ha vinto 1-3 la quarta partita giocata in appena 10 giorni bella reazione delle Tigri Biancoverdi che erano reduci da due sconfitte per 3-0 contro Scandice Conegliano la squadra di Maffrici tornerà in campo domenica a Urbino quando alle 17 affronterà Busto Arsizio torna invece a giocare domani Little Service Pesaro nel campionato di Serie A di Calcio A5 una data quella di venerdì che diventerà appuntamento fisso per ogni gara casalinga del Little Service Pesaro Ritorno al passato per Little Service Pesaro Calcio A5 che dopo due gare casalinghe disputate di domenica pomeriggio torna ad aprire i cancelli del Palafiera al venerdì sera alle ore 20.30 una decisione societaria che torna sui suoi passi dopo la modifica effettuata durante l'estate che proprio dal venerdì sera era stato deciso di far giocare Little Service alla domenica pomeriggio un dietro affronte arrivato dopo alcune valutazioni fatte sulla squadra, sull'impianto e sui già numerosi impegni sportivi in programma la domenica in città cambio di programma che vedrà subito la luce questo venerdì 4 di novembre alle 20.30 con la squadra di Mister Colini che ospiterà il Real San Giuseppe a 5 punti in classifica rispetto ai 4 di Biancorossi sì, perché mai come in questa stagione la squadra di Pesaro aveva iniziato con tante difficoltà frutto soprattutto dei limiti imposti dalla divisione Calcio A5 sul numero di italiani e stranieri in rosa dopo 5 giornate Little Service si trova con 4 punti una vittoria, un pareggio e tre sconfitte e mai come ora la società chiede il supporto del suo pubblico per sostenere la squadra verso un'imminente reazione sin da subito, sin da venerdì alle 20.30 al Palafiera da Little Service Calcio A5 a Little Service Loreto Basket impegno casalingo infatti anche per la società gemella di Coach Foglietti reduce dalla netta vittoria 53 a 99 a Osimo sabato 5 novembre alle ore 18 Little Service Loreto Basket sarà di scena a Bahia Flaminia contro la Robur Falconara Loreto è reduce da un galvanizzante filotto di 4 vittorie su 4 ed è seconda in classifica nel girone Marche Umbria della Serie C Silver davanti c'è solo Recanati ma con una partita giocata in più per 5 vittorie su altrettanti match disputati e con le notizie di sport si conclude qui questa nuova edizione del Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata questa sera infatti alle ore 21.20 potrete seguire come tutti i giovedì in diretta sul canale 80 insieme a Canestro la quarta puntata con Riccardo Visconti come ospite e Mauro Procaccini ex giocatore allenatore vi ricordo che la puntata la potrete seguire anche in diretta sulla nostra pagina Facebook e potrete commentare sul numero WhatsApp 370-366-721 e poi vi ricordo l'appuntamento anche per domani mattina con Buongiorno Rossini la rassegna stampa della provincia dei quotidiani di Pesaro e Urbino alle ore 7.20 in diretta e con questo è veramente tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata